...e voi potreste pensare di essere giudici a trove? Con questo noto in Cisemadini sul portale della venuta del 1700, San Lorenzo dei Cimilenti e le torte accoglieci a uno stile nel nuovissimo scenario total white del cortico di Marco per riuscire l'emozione di un sonno d'occhio vecchio. Vi aspettiamo al ceritolo di...